300 mini abbonamenti già venduti dalla società per dimostrare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i tifosi dell'Avellino amano la squadra e vogliono tornare a gridarlo dai gradoni. L'idea della società si è rivelata dunque vincente. La campagna per la vendita di questa speciale serie di abbonamenti è cominciata il 2 novembre e come detto ad oggi ha consentito alla biglietteria di staccare ben 300 tessere. I prezzi sono assolutamente popolari e varranno per 5 sfide certamente decisive tra le quali spicca il big match contro la capolista dunque Avellino Taranto, Avellino Picerno, Avellino Bari e Avellino Foggia con prezzi che vanno dai 35 della curva ai 90 euro della tribuna. La risposta è stata positiva tanto che è ipotizzabile che la formula possa, chissà, magari lo sperano i tifosi, essere riproposta. La certezza è che in caso di risposta positiva della squadra e dopo quel che è già accaduto a Palermo si potrebbe considerare anche archiviata la fase di gelo tra i tifosi e i calciatori bianco-verdi. Il momento buio potrebbe dirsi superato ma per farlo c'è ovviamente bisogno di offrire una prestazione degna e magari coronata dai tre punti.